Stand Back the Yellow Line, un'iniziativa a cui partecipa anche il Comune di Firenze, siamo con Andrea Vannucci. Sicurezza per i giovani anche quando siamo in stazione, in prossimità dei treni, un torneo per sensibilizzare questa tematica. Sì, è un torneo in cui ci sono dentro tanti contenuti, tanti significati. Prima di tutto un contenuto di educazione civica, un contenuto di convivenza, un contenuto di rispetto delle regole. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, insieme alla Polfer, ha individuato lo sport come uno straordinario veicolo per far interiorizzare alle nuove generazioni come si sta in stazione, come si affronta una stazione per farlo in assoluta sicurezza. Abbiamo vissuto in questa città dei momenti relativi alla campagna sulla linea gialla, la famosa linea gialla, non oltrepassare la linea gialla, attraverso prima di tutto uno sport, uno spot televisivo attraverso la palla a canestra alla stazione Santa Maria Novella di un paio di anni fa, poi attraverso il rugby, presto attraverso la palla a volo. Questo fine settimana 32 squadre da tutta Italia, da tutte le regioni, si troveranno al Campo di Marte per un torneo di minibasket. Quindi è un momento bello, un momento in cui attraverso lo sport si impara, si impara a stare insieme agli altri, si interiorizzano contenuti che serviranno per tutta la vita. Quindi è una bellissima iniziativa. Con te ci aggiorniamo sempre sui risultati del basket fiorentino, per cui è un momento altro delicato. Sabato, ultima partita per la Fiorentina Basket contro Moncalieri, salvezza diretta legata un po' a Mezzo Miracolo, perché dovrà perdere anche Alto Sevini, mentre Lenic dall'altra parte è già agli spareggi interregionali per cercare di arrivare in Serie B. Momento sempre più importante. Momento importante, evidentemente l'assessore dello sport confida di vivere un derby in Serie B l'anno prossimo, spera di vivere un derby in Serie B l'anno prossimo. C'è da fare il tifo, c'è da rimboccarsi le maniche e fare bene l'ultimo meglio. Evidentemente per la Fiorentina Basket la sconfitta di domenica complica un po' le cose, perché non basta vincere, occorre anche che Alto Sebino perda in casa, mi pare. Quindi non è semplice. Mentre gli spareggi sono una sorta di campionato a sé, e quindi lì c'è da fare gli auguri all'Enic Firenze affinché superi anche questo step per andare appunto a fare la categoria superiore. Andrea, inizia la bella stagione, c'è anche il basket all'aperto. Adesso aggiornami su questo tema perché noi ti abbiamo stuzzicato un po' recentemente, ma mi sembra che la risposta sia stata abbastanza pronta a parte del Comune di Firenze. Sì, anche perché lo sport all'aperto, lo sport libero, lo sport diffuso, lo sport gratuito, spontaneo, scegliete l'aggettivo positivo che vi viene in mente, è un valore per questa amministrazione. Abbiamo inaugurato da poco un campetto di calcio e di basket a Pontagreve, abbiamo uno di calcio in largo medaglio d'oro, adesso attraverso la sponsorizzazione di film domestic che faremo quattro canestri, uno per il quartiere della città e prestissimo sostituiremo, anzi non sostituiremo, lasceremo i canestri che ci sono, i famosi canestri non all'altezza, alle cascine ma accanto, segneremo anche quel campo accanto come pallacanestro e inseriremo i canestri a sbraccio con la retina di metallo, perché un playground senza retina di metallo non è un playground. Detto questo, oltre ai quattro che faremo con film domestic, siamo in buona indirittura d'arrivo anche per sostituire i canestri della torre, dell'ex la torre, perché appunto in questa città la voglia di pallacanestro è tanta, ci sono tante società sportive che fanno un grosso lavoro durante tutto l'anno, ma è interesse dell'amministrazione che questa passione si sviluppi su 12 mesi l'anno e quindi anche i campini all'aperto hanno una loro straordinaria rilevanza e c'è la volontà di andare avanti su questa strada.